il cane in famiglia e nella società come comportarsi con i nostri amici a quattro zampe di tommaso castellano e roberta mochi il cane in famiglia nella società ha diversi capitoli introduzione al cane e alla convivenza in famiglia nella società la relazione tra l'uomo il cane l'importanza del addestramento come percorso educativo condiviso le attività recreative la comunicazione il concetto di aggressività e il mozzo il gioco le relazioni il miglior rinforzo la costruzione della relazione con il cane il mondo esterno la passeggia dell'area cani il cane morsicatore la normativa dall'identità canina giuridica alla legislazione con le conclusioni di roberta mochi e tommaso casellano grazie a tutti